Meglio tardi che mai, soprattutto quando ci si mette la burocrazia con altri intoppi, così dopo la bellezza di 35 anni Chieti avrà la sua casa dello studente ATER nella parte alta. Il progetto di completamento è stato approvato, annunciano i vertici dell'ATER, l'aggiudicazione dei lavori nei prossimi 20 giorni e 400 mila euro messi a disposizione della regione dopo l'istanza dell'ATER. Insomma colpisce un po' come questa incompiuta era destinata ad ospitare gli studenti del 1987 dintorni che ora sono diventati oltre 50 anni con una carriera si pensa avviata e quella stanza universitaria tanto agognata che resta nella memoria. Il direttore dell'ATER di Chieti, Giuseppe D'Alessandro. Le cose stanno che abbiamo cercato di riavviare la normalizzazione, cioè riconsegnare alla collettività su un mandato del Consiglio di Amministrazione. Il primo giorno del mio insediamento il Presidente ha indicato delle priorità che il Consiglio di Amministrazione ha fatto proprie e l'obiettivo prioritario era riconsegnare e ultimare i lavori della casa dello studente. Inizato nel 1987 l'opera ha subito una serie di pit stop, chiamiamoli così impropriamente. Oggi abbiamo ottenuto il risultato di approvare un progetto esecutivo, abbiamo costituito una task force interna, abbiamo realizzato un progetto con le risorse umane interne dell'ATER di Chieti e il coinvolgimento anche di tutti gli attori che erano coinvolti in quest'opera, l'ACA, il Comune. Ovviamente gli interventi sono importanti perché completano la infrastruttura sotto il profilo tecnologico, sanitario e sotto il profilo della sicurezza. E c'è una peculiarità di grande civiltà che D'Alessandro vuole mettere in evidenza. Ricordiamo che l'opera è rivolta prioritariamente agli studenti e in particolare agli studenti diversabili. Ancora di più questa è un'importanza, ancora di più dopo la fase pandemica e ancora pandemica che stiamo vivendo. L'opera sarà munita di un sistema anche di controllo e vigilanza e videosorveglianza. Per quanto riguarda i fondi sono regionali? L'istanza rivolta alla Regione Abruzzo ha consentito di ottenere nel bilancio 2021 le risorse, circa 400 mila euro, necessarie per l'ultimazione dei lavori. Quante stanze ci saranno? Ci sono 49 posti utilizzabili. Ribadisco, la infrastruttura è dotata di una logistica e di una mobilità particolarmente utile alle persone affette da problematiche e da diversità. Quando sarà riconsegnata la struttura alla città? Ma presumiamo, riteniamo che entro la fine dell'anno l'opera sarà inaugurata.